Fine settimana di intensi controlli antidroga nel VCO. A conclusione di un'indagine finalizzata a debellare il traffico di stupefacenti, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di un 27enne del Cusio, rinvenendo 144 grammi di marijuana e 14 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Il giovane è stato denunciato a piede libero. I carabinieri della compagnia di Verbal... Scarica gratuitamente l'app News 24 e leggi gratis i nostri giornali. E se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.